La caccia al cinghiale viene fatta con l'utilizzo di carabine e fucili a pallettoni. Basta questo per capire il perché i cittadini di Atripalda si sono spaventati. A chiarire cosa accadrà da giovedì Antonio Raffaele, presidente ATC di Avellino, che tranquillizza la gente. Non è possibile cacciare nelle zone antropizzate, nelle zone abitate o nelle vicinanze di strade, capannoni, depositi o parchi pubblici. L'assegnazione di quell'area a una squadra non va in deroga a quelle che sono le leggi nazionali, quindi i cacciatori si dovranno attenere a quella che è la legge nazionale, la 157 del 92, che prevede tutte quante le distanze, le norme che disciplinano i divieti, vanno assolutamente rispettate. Quindi la caccia nelle zone antropizzate non è possibile per nessun tipo di motivo. Per quanto riguarda quella cartellonistica messa, è stata messa in modo abusivo, perché la cartellonistica è necessaria applicarla la mattina solo nell'area di battuta, che è una zona vocata per il cinghiale, quindi parliamo di canali, di boschi, di zone fortemente boschive, e assolutamente non in zona dove ci sono culture specializzate o abitazioni. La legge parla chiaro, si può almeno 150 metri dalle abitazioni, dalla strada a 50 metri di spalle dalla strada e devono tener conto della gittata dell'arma che usano, quindi una volta a mezza la gittata dell'arma, se si tratta di un fucile normale ad animaliscia, almeno 200 metri, se si tratta di carabini, un chilometro e mezzo dalle abitazioni, quindi dovranno cacciare in assoluta sicurezza, tenendo conto delle norme in vigore. Quindi la popolazione può stare assolutamente tranquilla da questo punto di vista? Assolutamente, l'assegnazione a una squadra di un territorio non va in dergo a quelle che sono le leggi sulla caccia.